Buongiorno a tutti ragazzi e forza Juventus. Oggi abbiamo principalmente tre argomenti da trattare e se siete pronti iniziamo subito perché ci saranno tante cose da dire e spero anche abbastanza interessanti oggi perché ho voluto portarvi un'analisi tattica, era un po' che non ve ne portavo però mi sembrava giusto iniziare a scaldare i motori in vista della prossima stagione dove secondo me avremo tante cose da andare a identificare, dovremo scavare abbastanza nel dettaglio per farci anche un po' un'idea di quella che sarà la Juventus che verrà. E proprio dalla Juventus che verrà voglio partire perché c'è una trattativa che sembra essere giunta alla conclusione. La Juventus sembra intenzionata a chiudere il suo primo colpo per la stagione 2024-2025, si tratta di Felipe Anderson, brasiliano della Lazio, classe 93 in scadenza di contratto al 30 giugno 2024, giuntoli e individuato in lui l'occasione giusta da accapparrarsi per iniziare una nuova campagna acquisti, la prima vera campagna acquisti estiva di giuntoli come responsabile dell'aerosport della Juventus e io qui devo già andare a dire quello che penso di questo colpo. A me Felipe Anderson piace tanto storicamente, è un giocatore che inizia ad avere i suoi anni, è un giocatore che a parametro zero puoi andare a prendere, ci mancherebbe altro perché comunque non paghi il cartellino, vai a pagare l'ingaggio e qui c'è il primo nodo. Quanto sarà d'ingaggio? Perché ovviamente in base a questo c'è una valutazione da dare e ovviamente anche la durata del contratto deve essere un'altra valutazione. Fino a che non avremo a disposizione queste due informazioni, questi due dati, sarà un po' difficile andare a dire se Felipe Anderson è un buon colpo sì o no, ma soprattutto perché quello che poi conta è dal punto di vista sportivo quella che sarà l'idea della Juventus per l'utilizzo di Felipe Anderson. È un titolare? Una riserva? Lo prendi per allungare la rosa? Per dare esperienza? Perché devi cedere un giocatore offensivo davanti? Siccome la Juventus tra Ildis sulle chiesa, Lauvic, Ken, Milik, inizia ad avere un parco attaccante di livello e infatti si mormora, si vocifera di questa possibile o comunque potenziale uscita di Ken e anche di Milik. Però sono due prime punte, non sono giocatori che giocano sull'esterno. Potrebbe essere un giocatore molto adatto per Tiago Motta, un giocatore che nulla avrebbe a che vedere invece con il 3-5-2 di Allegri o il 3-5-2 di Conte, dato che è un altro nome che sta circolando, ma secondo me oggi Conte è troppo più indietro di Tiago Motta nelle gerarchie e nelle volontà della Juve. Anzi, non so nemmeno se Conte sia nelle volontà della Juve, sicuramente la Juve è nelle volontà di Conte, ma questo è un altro discorso, è come disse lo stesso Antonio, i matrimoni bisogna farli in due. È vero che oggi Filipe Anderson sta facendo una fase di non possesso invidiabile, cioè esterno a tutta fascia, anche con Tudor, però con Allegri non mi immagino un Filipe Anderson alla Kostic o alla Cambiaso, per intenderci. Quindi è un vero e proprio tornante in fase di non possesso. Poi abbiamo da parlare dell'Inter, che ieri sera ha vinto all'ultimo secondo e che va a minacciare quello che è il record dei 102 punti proprio di Antonio Conte. Vedremo se alla fine dell'anno Simone Inzaghi riuscirà a tagliare questo storico traguardo, ovviamente mi auguro di no, mi piacerebbe preservare il record di punti. Ma proprio qui voglio arrivare, dato che abbiamo parlato di Kostic, di 3-5-2 e bla bla bla, andiamo a vedere un po' come ha giocato la Juve l'altra sera con la Fiorentina, almeno nel primo tempo, perché mi sono limitato a fare l'analisi del primo tempo, che è quello che mi è piaciuto un po' di più. Poi non è che mi sia piaciuto tutto, perché qui iniziano anche un po' di problemi e credo che siano critiche costruttive da fare, anche perché Locatelli l'altra sera ha toccato l'argomento e ha detto Noi dobbiamo palleggiare di più, dobbiamo cercare di far noi la partita senza che si possa finire in balia degli eventi. Allora vado a prendere il calcio d'inizio e già da qui iniziamo a capire un po' di cose, perché la Juventus è scherata appunto con un 3-5-2, lo vedete in figura con Locatelli, vertice molto basso, quasi ad altezza dei braccetti, con Bremer che fa quasi il libero, però ci può stare come configurazione. Il punto è, guardate già dal calcio d'inizio quanto è spaccata la Juventus. Abbiamo Cambiaso, Kostic molto larghi, Rabiot, McKennie, Chiese, Vlaovic, tutti sulla linea del centrocampo e poi i quattro giocatori difensivi dietro, quel blocco composto da Gatti, Danilo, Bremer e Locatelli e c'è un motivo. Perché sono messi così? Perché la Juventus ha una volontà nel calcio d'inizio già abbastanza chiara su quella che deve essere la gestione della palla. Infatti che cosa fa? Palla indietro, scarico su Locatelli e lancio sulla sinistra. In questo caso sulla sinistra si trovano Kostic, Rabiot, Chiesa e sta andando pure Vlaovic. E la volontà è proprio quella di andare a prendere i centimetri di Rabiot. Quindi un lancio praticamente da 50-75 metri, Locatelli lancia dai 25 metri della sua metà campo a cercare Rabiot quanto più in là possibile per guadagnare questi metri e per fare una sorta di scavalcare il centrocampo. Un 1-3 vecchia maniera. Il punto qual è? La Fiorentina è già schierata dietro nella sua metà campo, quindi non c'è dello spazio da andare a prendersi. Questa cosa può essere interessante o intelligente. In caso di Fiorentina comunque sbilanciata in avanti, tu provi a saltare il loro centrocampo per evitare il filtro e vai a cercare l'uomo più in là, più isolato, che può trovarsi in superiorità numerica. In questo caso ovviamente abbiamo in figura tre giocatori della Fiorentina nella metà campo della Juve, il che significa che ce ne sono ancora otto di là contro i 1-2-3-4-5-6 della Juventus. Quindi sei già in inferiorità numerica e infatti il primo possesso della palla è una palla persa dalla Juve perché Rabiot non riesce a vincere il duello aereo e la Fiorentina recupera palla dopo nove secondi. Ecco già qui ci fa capire quanto alla Juventus non importi usare il pallone, giocare col pallone, trovare degli spazi o dei duelli in superiorità numerica. La Juventus delle due preferisce guadagnare i metri facendo viaggiare il pallone anche con soluzioni non proprio efficaci. E questo è già un bel problema e se Lucatelli l'altra sera diceva siamo comunque giocatori che la palla la possono gestire, ecco questa non è sicuramente la gestione migliore del pallone. E questo credo che sia già un problema ma non il macro problema. Qui abbiamo il possesso palla della Juventus e ci rendiamo conto già da questi dati che sono dati anche estremi, forse i dati peggiori in assoluto della Ligribis per quanto riguarda il possesso palla che già nel primo tempo, la Juve che ha fatto un buon primo tempo secondo me ha tenuto il 34% di possesso della palla. Nel secondo tempo è stato ancora più estremo il 16%, alla fine della fiera la Fiorentina ha avuto il 75%. Non è il possesso palla secondo me il dato che ti fa capire quanto è forte una squadra o quanto deve vincere una squadra o robe del genere. Però è un dato di fatto che alla Juventus il possesso della sfera non interessi e se questi risultati della Juventus un po' altalenanti, un po' ballerini continuano ad essere presenti da tre anni a questa parte, probabilmente uno dei motivi è anche questo. E la Juventus però non va a intervenire su questa cosa, non ha interesse nel migliorare questa determinata statistica. La Juventus continua ad andare avanti con la sua mentalità del guadagniamo metri, del sfruttiamo i piazzati, del facciamo gol eventualmente su un calcio da fermo, eccetera, 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 eccetera. Infatti anche l'altra sera, come nasce il gol della Juventus, spizzata di Bremer su un cross, gatti, tap in. La Juventus è questa roba qui, giusto? Sbagliato? Ditemelo voi, sicuramente c'è tanto margine di miglioramento e sentire che dobbiamo migliorare al sette giornate della fine nel terzo anno della stessa guida tecnica dove queste cose non sono nemmeno mai state toccate, devo dire la verità, è un po' deprimente perché, ok, dobbiamo migliorare, però poi bisogna lavorare per migliorare, non è una roba che verrà da sé. Queste sono cose che se prepari in questo modo, se il calcio inizio lo prepari per lanciare direttamente dove ci sono sette, otto uomini da Fiorentina a difendere, significa che a te la palla non interessa, non è un migliorare, è proprio una strategia, una volontà ben precisa. Possiamo andare a vedere anche quello che è lo sviluppo della Juventus, perché, vabbè, questo non c'entra niente, scusatemi, una vecchia cosa, la Juventus si sviluppa con il 4-3-3. Come potete vedere qui abbiamo uno sviluppo di 4-3-3, non è una novità in realtà per la Juve, lo abbiamo visto fare spesso e volentieri, infatti io mi sono un po' stupito quando l'altro giorno con la Lazio si è parlato di una Juve che giocava 4-3-3. Juventus sviluppa spesso e volentieri 4-3-3, con Kostic che si abbassa, Gatti che si alza, va a fare il terzino di destra, Bremer e Danilo che fanno i centrali, e poi abbiamo Locatelli-Rabiu e un terzo, dico un terzo perché poi ci arriveremo. Qui infatti possiamo vedere lo sviluppo della stessa azione, vi ricordo che le immagini sono prese dal sito ufficiale della Juventus, quindi juventus.com, è la partita proprio che si vede in modalità abbonato su juventus.com, sono andato a fare gli screen e ho inserito semplicemente le linee per farvi comprendere un po' meglio il tutto, qui possiamo vedere la Juventus che effettivamente sviluppa con il 4-3-3. Bremer che da braccetto, anzi più che da braccetto da difensore centrale di destra, con Danilo difensore centrale di sinistra, Gatti che fa praticamente il terzino, un po' come faceva Barzagli all'epoca, e Costi ci isolato dall'altra parte a fare il terzino sinistro. Rabiolo, Catelli e Cambiaso, perché Cambiaso che parte si esterno di destra nel 3-5-2, stringe dentro il campo, l'abbiamo visto fare spesso e volentieri perché Cambiaso è un ottimo palleggiatore, un giocatore che dà anche i giri giusti al pallone e fa girare la squadra secondo i ritmi. E poi abbiamo Chiesa, Vlaovic e Meccenni che va a fare praticamente l'ala destra. Questa è una soluzione che abbiamo visto spesso e volentieri, Meccenni è uno di quei giocatori che si alza sul braccetto sinistro degli avversari, o comunque su un difensore degli avversari, quando la Juve accenna quelle fasi di pressing. Quindi Meccenni come finto attaccante in un tridente a destra l'abbiamo visto spesso e volentieri. Poi non significa che faccia l'attaccante, ma la posizione che va a occupare è quella per un motivo. E non c'è nemmeno male, perché la Juventus quando sviluppa, sviluppa col 4-3-3 è bene così. E nel primo tempo abbiamo visto tanti movimenti senza palla. Anche qua Meccenni ne sta facendo uno. Abbiamo visto tanti tocchi di prima della Juve, però abbiamo visto pochissime azioni iniziare dal basso. Ed è ovvio e logico che quando sviluppi dal basso riesci a crearti degli spassi maggiori e più intelligenti piuttosto che buttare la palla su. Che per me non è nemmeno un male, per me ogni tanto la palla su ci deve andare. Se devi organizzarti, se devi respirare, se sei messo male, se sei in difficoltà. Meglio là che qua. Però poi è ovvio che cercando un certo tipo di approccio come quello che sta facendo la Juventus adesso, può essere più efficace. Tant'è che nel primo tempo la Juve che, sì, tiene il 34% di possesso palla, ma quando ce l'ha, prova a giocarla in velocità, negli spassi con movimenti senza palla, la Juventus segna con gatti, ma segna anche altri tre gol che vengano annullati per fuorigioco. Quindi l'approccio, quello che si vuole provare a fare nel primo tempo è già qualcosa di buono, è già qualcosa di efficace. Peccato che questa cosa non venga riproposta nel secondo e che non sia stata vista per larghi tratti durante questa stagione. Abbiamo le posizioni veri e proprie, no? Guardate com'è, questo è preso direttamente dal sito della Serie A, guardate com'è posizionata la Juve. Il 4 che gatti insieme a Bremer, Danilo e Kostic, come abbiamo visto qui nell'immagine. Questo è il primo tempo sviluppo palla della Juventus, con Cambiaso che fa effettivamente la mezzala di destra, Roccatello e Rabiot che vanno a comporre il centrocampo e davanti questa sorta di finto di tridente con McKennie, Vlaovic e Chiesa. Ora, qui c'è un problema però, perché è vero che Cambiaso e McKennie che vediamo in immagine sono due giocatori interessanti e intelligenti nel scambiarsi le posizioni, uno stringe, uno si allarga e fanno un giochino molto interessante. Però la Juventus è tutta sbilanciata a destra. Come potete vedere la Juventus gioca solo a destra. A sinistra lascia il solo Kostic. Motivo perché si voleva attaccare il lato a sinistra della Fiorentina? Può essere, potrebbe anche essere una delle idee. Però che cosa significa? Che la Juventus non va ad occupare bene l'ampiezza del campo, non va a prendersi tutto il campo e quindi lo sviluppo del pallone non può essere completamente, non può essere al massimo, non può irrendere al massimo, non può andare a occupare tutti gli spazi. Ma soprattutto, guardate, l'ampiezza che viene presa davanti, Chiesa fa letteralmente la punta. Non fa l'esterno. E Chiesa quando riesce a puntare sull'esterno uno contro uno, è sicuramente più efficace. E invece qua parte da posizione centrale. Infatti, siccome Chiesa non fa una grande partita. C'è stato un momento, al minuto 26, dove abbiamo visto Danilo dentro il campo. Lo vedete, in questa figura è letteralmente il vertice basso del centrocampo. Ora, mi ero anche un attimino, tra virgolette, esaltato dalla volontà di provare qualcosa di diverso in presa diretta. Poi siamo andati a rivedermi il primo tempo, proprio per trovare questi spunti, ed è una situazione in realtà fortuita, non di sviluppo della Juventus da dietro, ma di una palla che viene rinviata dalla Fiorentina e finisce lì. In questo momento i giocatori della Juventus hanno semplicemente occupato queste posizioni d'emergenza. Quindi Kostic ha preso il posto di Rabiot, infatti vediamo Rabiot che gli dice stai lì al mio posto, Rabiot che fa il terzino sinistro, Gatti che fa l'altro centrale, Cambiaso che fa il terzino di destra e Danilo che va a prendere la posizione di una mezzala. Però io stavo pensando, ma Danilo dentro il campo, al di là di questa situazione che è fortuita e non preparata, può essere vantaggioso? Può dirci qualcosa anche per la Juventus del futuro? Io ieri vi parlavo anche della volontà di discutere la figura di Danilo. Però Danilo è un giocatore interessante, intelligente tatticamente, Pirlo l'ha provato addirittura dentro il campo veramente di partenza come centrocampista, ora non credo che quello sia il suo ruolo, però è un giocatore che è passato anche da Guardiola e proprio da Guardiola voglio passare anch'io per cercare di capire quello che è effettivamente lo sviluppo del Manchester City. Se dobbiamo prendere la regina del possesso palla e capire come fa a sviluppare quel possesso palla passiamo da qui, poi certo, De Bruyne, Wundogan, Rodri, Bernardo, tutti giocatori eccellenti dal punto di vista tecnico, ma c'è un grande lavoro dal punto di vista tattico. Non abbiamo mai visto per dire Rodri sparare come ha fatto Locatelli alla ricerca di Grilish che deve andare di testa, ora dico Grilish perché è in quella posizione lì, però il concetto è che il City vuole arrivare in un altro modo col pallone, sfruttando anche le caratteristiche tecniche dei giocatori, andando a massimezzare. Sicuramente c'è un'organizzazione alla base che permette di far venire fuori tutte le meraviglie tecniche che hanno nei piedi questi giocatori. Però guardate attentamente la formazione del City, questa è la finale di Champions, vinta per 1-0 ai danni dell'Inter, il City si schiera con un 3-2-4-1, ok? Ma soprattutto con Stones che si alza a centrocampo, l'abbiamo visto spesso e volentieri. Perché Stones si alza a centrocampo? Perché Guardiola schiera una sorta di quartetto di difesa finto, con dei terzini finti, con Akanji e Ake, Stones e Rubens Dias sulla linea 4 e potremmo vedere come Rodri vertice basso, De Bruyne e Gundogan come mezze ali, Grilish e Bernardo e Holland come attacco in un 4-3-3. È semplicemente un giocatore che si stacca dalla linea difensiva 4, che diventa quindi a 3, e va a centrocampo, va a creare una sorta di doppio pivot. E vi ho messo qui il WM, come potete vedere è proprio la dimostrazione grafica che si va a creare quando si stacca un giocatore e va a creare appunto questo 3-2-4-1. Ora, non è esattamente quello che dico che Leventus dovrà inseguire, però sicuramente si fa questo per avere un maggiore possesso palla, per cercare di creare questa sorta di quadrato tra i due giocatori rossi inside-forward dai due giocatori gialli half-back, che possiamo vedere in Stones, De Bruyne, Gundogan e Rodri. Quindi andare ad avere quattro giocatori a centrocampo in quella sorta di quadrato che riescono a creare superiorità numerica in quello che è solitamente invece un centrocampo a tre degli avversari, quindi avere sempre un'opzione in più di passaggio. Vi metto anche una dimostrazione proprio della finale di Champions, ho preso da ultimo uomo questo screen perché è emblematico, come potete vedere si crea una sorta di 3-4-3 con un centrocampo a rombo, quel quadrato di cui vi parlavo prima, per cercare di avere la superiorità numerica nei confronti del centrocampo dell'Inter. Vedete come sono stati ingabbiati i giocatori dell'Inter, questa è la volontà di avere la superiorità numerica, e la superiorità numerica significa più possibilità di palleggio. È ovvio che bisogna avere delle caratteristiche tecniche importanti per farlo, ma questa cosa ti aiuta ad avere più opzioni di passaggio e non dover sempre andare o orizzontale, oppure il retropassaggio al portiere. Perché se fai solo queste cose qui, se hai solo queste linee di passaggio, sei obbligato a fare questo o a cercare delle linee di passaggio più complicate da cui possano nascere degli errori tecnici anche imbarazzanti, anche basilari, e ti dà la sensazione di dire, ma questo giocatore è davvero così scarso? Magari sì, o magari semplicemente inserito all'interno di un contesto che non fa le sue fortune. Quindi prendersi l'ampiezza, l'abbiamo visto prima, è l'immagine in mezzo, Chiesa, Vlaovic e McKennie non prendono l'ampiezza, la Juventus non ha sfruttato l'ampiezza in questa partita nello specifico. Parte 3-5-2, ha sviluppato come in mezzo, ma se alziamo Danilo in mezzo al campo e Costi, Cegatti, stringono che non fanno i difensori centrali, perché questo è semplicemente in fase di possesso palla, poi la Juventus può difendere 5-3-2, non è un problema, però se la Juventus in fase di possesso, quindi impostazione, cercare gli spazi, cercare il palleggio, aumentare la qualità della circolazione del pallone, alza Danilo in mezzo al campo, di fianco a Locatelli, va a creare questo doppio pivot e riesce a creare quella scatola, Danilo, rabbio, McKennie, Locatelli, per cercare di creare quella superiorità numerica, indispensabile per poi liberare Chiesa e Cambiaso sugli esterni e valorizzare ancora di più il fiuto del gol di Dujan Vlaovic, beh, secondo me questa può essere assolutamente un'idea interessante. Ora però voglio sapere la vostra opinione, perché vi ho bombardato di immagini, di nozioni, di informazioni, eccetera, eccetera, però secondo me questa può essere assolutamente un'opzione interessante per la Juve del futuro, dato che molto probabilmente il prossimo allenatore della Juventus sarà Tiago Motta ed è sicuramente un allenatore giovane, intraprendente e con delle buone idee di calcio. Fatemi sapere la vostra questione nei commenti. Ciao!